Oltre al fatto che è scritta veramente male e definita da alcuni importanti costituzionalisti come l'antilingua, il modo in cui è stata scritta questa nuova costituzione, ci sono delle ragioni di forma che sono enormi. Innanzitutto è una nuova costituzione perché parliamo di un terzo dei 139 articoli che sono modificati e che è stata scritta da un Parlamento incostituzionale. Quindi è come se uno giocatore venisse beccato a violare la regola di un gioco e venisse poi scelto questo stesso giocatore beccato a riscrivere le regole del gioco. Secondo noi questa è una cosa a dire poco folle. Un altro motivo che mi preoccupa e preoccupa molto il Movimento 5 Stelle è il clima che si è creato. Già è un periodo difficile con un problema immigrazione, un problema terrorismo, una crisi del lavoro, una disoccupazione giovanile enorme. E si sta spaccando a metà il Paese. Vedete le manifestazioni di piazza contro il Presidente del Consiglio che va in giro a parlare di questa riforma. E questo ha spaccato a metà quale parte del Paese? La parte del Paese onesta. E io penso che se c'è una cosa in cui si debba andare tutti a braccetto, indifferentemente dal colore politico, indipendentemente dal colore politico, è la Costituzione che è la regola delle regole, è la tavola delle regole democratiche che unisce tutti noi. La Costituzione si cambia in periodi tranquilli, in periodi di pace, in periodi di non crisi economica. Questa è tutt'altro, la situazione è tutt'altra e il rischio è che se passa ci troveremo un'Italia da una parte e l'altra Italia dall'altra parte. E io ho paura, considerato quello che sta accadendo negli altri Paesi, che delle derive di forze politiche di estrema destra possano crearsi con una spaccatura così forte. Con questa revisione della Costituzione viene tagliata, il Senato rimane così com'è, viene tagliata la possibilità per i cittadini di candidarsi ai senatori e di votare i senatori. Io penso che questo sia un taglio della democrazia molto pesante. Dall'altra parte i nuovi senatori saranno i consiglieri regionali e i sindaci eletti dai consigli regionali, o meglio nominati dai consigli regionali, significa nominati dalla politica, dalla segretaria di partito, andranno a Roma a fare i senatori con l'immunità parlamentare. E tutti noi conosciamo gli scandali dei reati contro la pubblica amministrazione commessi da questi soggetti. Io penso che sia una follia ipotizzare di dare in mano a questi nuovi senatori che gestiranno Costituzione, legge elettorale e importanti regole democratiche, dare in mano tutto questo. Io direi no, manteniamo le cose come stanno. Il Movimento 5 Stelle vuole riformare la Costituzione, non in un momento come questo dove serve ad esempio il reddito di cittadinanza e una seria lotta alla corruzione. Le regole, queste regole le cambiamo in un momento in cui non c'è questa situazione qua, ma io direi di immettere nella Costituzione nuovi diritti per i cittadini, non tagliare dei diritti come ad esempio la possibilità di referendum propositivi senza cuore da parte dei cittadini o dei diritti a tutela della nostra sovranità nazionale che ci sta venendo estirpata ed espropriata, come vogliono questi nostri governanti di oggi, da parte della eurocrazia e di questi tecnocrati della BCE.